Vi racconto le prime tre parole che Gigi mi ha pronunciato per telefono. Non te le ricordi, te le dico io. Cristiano, nomen omen, non don cristiano, cristiano, e chi mi conosce sa che con me ha già vinto solo col nome. Poi Maremma, partitue, la terza, Maiala, cristiano. Maremma, Maiala. E diciamo che come incipit tra due preti ho avuto la conferma di quello che conosciamo un po' tutti, cioè di quello che traspare da te. E cioè una persona profondamente umana, altrimenti non starebbe dove sta e non farebbe quello che fa. E quindi ti ringrazio per questo viaggio, in fondo è un viaggio. Questo libro, Dannati, che già il titolo dice tanto, è frutto di un mio viaggio all'inferno. Forse è l'esperienza più faticosa della mia vita, dove ho sperimentato il baratro, la solitudine, l'abbandono, il fallimento, e potrei aggiungere di tutto di più. E per la prima volta ho colto di essere preda, come Dante racconta nella Divina Commedia, di queste tre fiere. Teoricamente possiamo saperlo tutti, almeno per me sperimentarlo per la prima volta è stato drammatico. E quindi abbiamo provato a rappresentare quello che il genio di Dante svela attraverso l'arte, un testo artistico. E cioè le tre fiere che rappresentano la lonza, questo ghepardo, la dimensione della carne, degli istinti del corpo. E poi il leone, la dimensione emotiva, esondante, aggressiva, potentissima. E la lupa, la dimensione razionale, mentale, che portano a spasso tutti, di cui tutti siamo preda, ma io, onestamente, illudendomi di illusioni della vita, ne ho avute e ne ho tante, non lo sapevo. Però fare i conti con queste tre belve e ritrovarmi a faccia a terra come il Minotauro, è stato, come dicevo, drammatico, ma anche illuminante. E siccome il viaggio della Divina Commedia, come tutti i viaggi di ogni uomo, è quella della ricerca di Dio, in termini laici, come piace a noi, dell'amore, perché il nome più eloquente, direi, più bello di Dio è amore. Perché in fondo tutti cerchiamo l'amore, ma questa è la prima domanda che ti faccio, è perché tutti disperatamente a volte cerchiamo l'amore, ma nello stesso tempo tutti facciamo i conti con le nostre disfunzioni, i nostri blocchi, i nostri demoni, le nostre fragilità d'amore. E quindi, come è possibile, secondo la tua esperienza, imparare ad amare? E' un'altra cosa che ho sperimentato in questo viaggio, nel buio, è che ad amare si impara, che non si nasce appunto con le competenze, soprattutto quelle spirituali, che questa roba, come ogni percorso, incontro, ti dà qualche input, qualche strumento, ma la vita, come sempre, è maestra. Quindi, ti ascoltiamo, in nome dell'amore, in nome di un amore che ci avvolge infinitamente. Grazie ancora di questo amore incarnato, si coglie, insomma, non conosco bene la tua vita, questo viaggio all'inferno che ti ha fatto incarnare. Bene, allora, giustifico i toscani perché, lo dicevamo alla parte, i toscani hanno l'inferno in bocca e il cuore nel cielo. E avete visto anche Dante, no, che ha a volte queste parole molto venenose, dure, ma alla fine torna a guardare le stelle. La sua ricerca, in tutti i cantici, è rivedere le stelle. Vedete, l'amore da sempre, credo, ci fa tremare, perché muove il sole e le altre stelle, come dice Dante. E amare o non amare, ci cambia la vita. Se riesci ad amare, ti cambia la vita, ma se non ami, diventa una vita da inferno. La vita, vedete, è un pezzetto di tempo che abbiamo per imparare ad amare. La vita, credo, ci è data proprio per imparare lentamente a capirci qualcosa dell'amore. E io passo la vita a comprendere l'amore. Comprendere vuol dire prendere su di te. Lo cerchi, lo vivi. Voi sapete che la definizione più bella di Dio, ha detto Cristiano, è l'amore, Dio è amore. E ci sono due parole, Dio è amore, che non puoi bestemmiare, che non puoi pronunciare in vano. E io credo che chiunque di voi regala un po' di bellezza in una notte senza luna, ha capito qualcosa dell'amore. Viviamo in un mondo ormai, ragazzi, messo male, no? Pieno di malinconia, noioso. San Francesco diceva, il peggio di tutti i mali è la malinconia. Ci avete mai pensato che il peggio vi può capitare è la malinconia? E malinconia vuol dire che io pretendo un mondo migliore, una donna migliore, un figlio migliore, e non so più dire grazie. Ormai è tutto dovuto. Questi figlioli viziati, tutto è dovuto. Tutti noi l'abbiamo dentro. Ci fosse uno che dice grazie, grazie che c'è un pezzo di pane, che c'è una casina, grazie di qualcosa, la malinconia che c'è infilata dentro. Oggi così tutti insoddisfatti, ci sa un'ansia da impazzire. E diceva Troisi, Massimo Troisi, ma tra un giorno dal leone e cento da pecore, non si potrebbe fare cinquanta da orsacchiotti? Cioè si potrebbe vivere normali. Io faccio una fatica a cane a trovare persone normali. Quando stanno bene, pensa ad essere Dio, tutte eccitate. Quando stanno male, venga lì. Voglio morire. Aspetta dieci minuti. Cerchiamo di capire. Vedete, non siamo normali, ragazzi. Ormai si sta vivendo da idioti dentro questa modernità. Io non sopporto questa modernità da imbecilli, perché la cosa peggiore che ci ha prodotto è i ritmi. Si sta vivendo da idioti da ottant'anni con dei ritmi folli. Da quando è nato il mondo non si è mai campato così. Si seminava, si aspettava, se non si fa oggi si farà domani. Ma io mi chiedo, come fa un padre o una madre a vedere se tuo figlio si droga? Se è felice, se è triste. Ma come cavolo fate a vederlo? Se arrivate rincoglioniti la sera a casa? Io consiglio a tutti i genitori, prima di entrare in casa la sera, respira, fai un giro intorno al palazzo, tiri i colleghi testa, corpo e anima, poi entri in casa senza di una parola, dà uno sguardo negli occhi a tuo figlio, a tua figlia, alla tua donna, al tuo uomo, e lo vedi. Ragazzi, se uno si droga, io lo vedo in tre secondi. Basta guardare le pupille, come cavolo si tocca, come si mobe, non c'è da essere dei geni. E' arrivata una donna in settimana a piangere un'ora, io a ridere un'ora. Oddio, ho scoperto il mio marito e due anni mi tradisce, pianti, pianti. Ho detto, sei proprio scema. Gliel'ho detto di cuore perché siamo amici, glielo potevo dire, ma gliel'ho detto perché non ne posso più. Se si parla di un mondo di imbecilli, posso dire non mi accorgo di nulla, no? Ma lo capite cosa vuol dire? Che non ascolti più gli odori, che non guardi da troppo tempo fisso negli occhi una persona, che non guardi come si move, perché se uno è imbarazzato lo vedi al volo. Capite? Ci hanno ammazzato la parte più bella. Lo vedete che siamo tutti esauriti, il corpo qui, la testa di là. L'anima non si sa dov'è, perché ormai non ci basta più nulla, tutto dovuto. Io avevo fatto un incontro una volta, l'amore, fattelo bastare. Fattelo bastare. Almeno quello, fattelo bastare. Vedete, perché non ci basta? Perché siamo complicati. Perché la semplicità è la ricchezza più bella del mondo. L'amore è semplice. Amare è semplice. Siamo noi complicati da morire? Diceva Van Gogh quanto è difficile essere semplici. È più facile essere complicati, è più facile essere pallosi, che leggeri. Ma l'amore è fatto di questa roba qui, di semplicità, di naturalezza, di leggerezza. Ma perché non siamo semplici? Primo, perché non ci basta quello che c'è. Non ci basta ma nulla. Secondo, perché ognuno di noi nasconde il suo opposto. Siamo tutti bugiardi da morire, ragazzi, ma tutti. si fa fatica a farsi vedere come sei. Spesso un santo nasconde uno pieno di peccati. Spesso un credente, Dio c'è, nasconde uno pieno di dubbi dalla mattina alla sera. Spesso un non credente che fa il ganza, non c'è nulla. E invece c'è un anelito di infinito da impazzire. E allora secondo me non siamo semplici perché non ci si accontenta di quel poco che c'è. Ci sembra sempre troppo poco. Perché siamo bugiardi. Ma terza cosa, perché ci manca l'ironia. L'ironia. Io mi ricordo il mio babbo quando d'estate tornavo dal seminario, lui comunista, non mi poteva vedere per anni che voleva fare i prete e tutti gli amici contro. E mi diceva quando tornavo quelle settimane a casa Gigi vieni a zappare con me nell'orto. E io gli dicevo babbo c'ho da studiare qui c'ho tempo. E lui ridendo diceva chissà perché quando c'è da zappare diventano tutti studenti. e vedete quell'ironia bellissima di non offendermi ma di giocare quell'ironia di chi ti vuol bene. Lo diceva Ionesco dove non c'è umorismo c'è il campo di concentramento. E allora secondo me la semplicità ci farebbe tanto bene. E vi assicuro che l'amore è semplice. Siamo noi così rimbambiti che l'abbiamo sciupato tutto che non sappiamo campare dentro l'amore. Vedete quante volte avete detto ti amerò per sempre. Vedete anche un gay anche chi non crede in Dio anche se si sposa in comune lo dicano anche loro capite? Tutti dicano ti amerò per sempre ma perché l'amore se non è per sempre che cavolo d'amore è? Quindi ti viene normale che sia per sempre. L'amore è forte come la morte vi ricordate il Cantico dei Cantici e l'ha scritto un pecoraio sperduto nel deserto. Avete notato una cosa che il Cantico dei Cantici è l'unico libro che non parla mai di Dio e uno dice accidenti il libro che parla dell'amore di più di tutti non parla mai di Dio perché perché parla d'amore e se si parla d'amore è un c'è bisogno di parlare di Dio capite? Perché Dio è amore c'è un contadino accanto alla pieve romanica Berlino che diceva senti poi dopo io ho detto dai ora sei vecchio però si va in paradiso e facevo queste battute a bischero e lui mi faceva io in paradiso senza la mi donna un ci voglio andare secondo me è stata una delle frasi più belle che ho mai sentito nella vita come a di ma chi se ne frega di paradiso se non c'è quella persona che ho amato tutta la vita ma che me ne fa e vedete l'amore è questo è bellissimo il testamento di Don Milani vi ricordate Don Milani scrive dice ai suoi ragazzi ragazzi io ho voluto più bene a voi che a Dio ma Dio è intelligente riporterà tutto a sé sembra una bestemmia no? dire ho voluto più bene a voi che a Dio ma ragazzi Dio non è geloso Dio non è geloso come noi se c'è l'amore e gli va bene ogni cosa l'importante è che sia un amore vero vedete quando si ama si fanno due promesse anche se voi non l'avete detto mai con la voce ma di sicuro a tuo figlio e tu amo la tua donna gli hai fatto due promesse d'amore prima il nostro amore vincerà non ce lo butterà giù nessuno nemmeno la morte la seconda promessa che si fa non ti lascerò mai solo e vedete queste due promesse sono pese non le puoi tradire non le puoi tradire per questo per me diventa difficile tradire l'amore perché sono promesse d'amore ma quando uno dice ti amo da morire a me mi garba da morire doppio ti amo da morire io credo che non c'è una frase più vera per dire il nostro limite e la nostra fame d'amore perché l'intensità di un amore non si misura dalla vivacità ma dal calore quello che questa generazione di imbecilli non ha capito è che se volevi capire cosa è l'amore dovevi dargli tempo oggi invece si incrina una storia la butto via ne trovo un'altra in volo ma come cavolo fa a capire l'amore l'amore ha bisogno di tempo se no non ci capirai mai nulla per questo io amo molto la parola fedeltà la parola fedeltà in ebraico non è tanto non tradire fisicamente tu amo la tua donna come si intende noi ma emet io non scapperò arriva una crisi e ti prometto che non scappo arriva il momento in cui non ci capirò più nulla e ti prometto che non scappo vedete per me l'amore è come un albero avete visto gli alberi no più passano gli anni e più diventano umili avete visto si appoggiano e i frutti diventano dolci volete una verifica sulle vostre storie d'amore se passano gli anni e l'amore fra te e il tuo uomo è più duro più acido più cattivo più prepotente non ha funzionato se invece passano gli anni e l'amore fra voi due è più umile e più dolce ha funzionato e allora per me l'amore ha bisogno di tempo ha bisogno di calma ha bisogno di fedeltà l'amore è un giardino che va coltivato l'amore è fatica la fatica vi dicevo della fedeltà c'è un bellissimo brano della bibbia Ruth e Noemi vi ricordate Ruth questa ragazza che sposa un ragazzo di un altro popolo di un'altra religione Noemi Noemi è la soscera questo ragazzo muore lei aveva fatto questo viaggio aveva cambiato popolo aveva cambiato terra e la suoscera Noemi gli dice Ruth è andata male vai via vai via trovate un altro vai via e sentite bella Ruth non mi mandare via dove vai tu andrò anch'io il tuo popolo sarà il mio popolo il tuo Dio sarà il mio Dio come a di ma chi se ne frega di quale Dio io ho voluto bene a te sono stato con te e non posso lasciarti lì e allora l'amore è questa roba qui è questa fisicità è questo sentire però vedete il difetto dell'amore è che è troppo ricco troppa roba l'amore non fa sempre bene lo direi a tutti i genitori chi l'ha detto che l'amore fa sempre bene l'amore fino a un certo punto fa crescere un figliolo se lo ami troppo lo rincoglionisci punto perché l'amore non deve essere via a coccolarti l'amore deve essere via a farti camminare a farti volare a renderti libero io ho visto dei figlioli distrutti dal troppo amore che li stringeva e non sapevano più campare allora l'amore ha bisogno di questa libertà vedete quando amate una persona la cosa che potreste dire voglio che tu fiorisca siamo il tuo uomo dovresti dire io voglio che tu fiorisca lo direi anche il figliolo voglio che tu fiorisca io non voglio un uomo rimbambito voglio un uomo vero non voglio una donna sottomessa ma la voglio libera io vorrei che tu fossi felice non ti voglio tenere non ti voglio sottomettere e perché spesso l'amore è fragile perché per due motivi primo perché l'amore è dare qualcosa che non ho a qualcuno che non conosco voi vi state dando un amore un po' alla bona e lo sta dando a uno che non conosci anche se ci stai da vent'anni non lo conosci ti potrebbe tradire potrebbe diventare a un certo punto diverso da come l'ho visto finora l'amore ragazzi è fragile per questo Dio dice prese l'uomo e la donna li mise nel giardino per custodire e coltivare come un fiore o l'amore lo custodisci o lo coltivi o lo sciupi e la vacci piano ma l'amore è fragile soprattutto perché l'amore è tutto ciò che ti rimarrà in mano dopo un po' di anni quando tutte le forze distruttrici hanno agito io lo dico sempre a quelli che sposo ragazzi ce la metteranno tutta per distruggere il vostro amore ce la metteranno tutta i sociare e le sociare a rompere con quell'invadenza ce la metteranno tutta quegli imbecilli d'amici che ti fanno quelle battute da idioti e non ti dicano mai come stai ce la metterete tutta voi con quel carattere permaloso testardo orgoglioso ragazzi cos'è l'amore quello che vi rimarrà in mano fra un po' d'anni quando tutto ciò che ha provato a buttarlo giù non l'ha buttato giù ce l'ha fatta ho imparato a parlare della mia esperienza di quello che vivo perché in fondo poi siamo tutti alla scuola dell'amore parlavi prima della misura e la mia fatica penso nella coppia in modo esponenziale perché non hai una comunità un sistema ma una persona concreta e tra il tempo per te l'amore a te quindi se vuoi la solitudine o mi piace dire una dimensione verticale quindi una relazione contemplativa cioè comunque uno spazio tuo sacro in questo senso dico contemplativa e la relazione con l'altro con gli altri quindi più una dimensione se vuoi di dono una dimensione relazionale lo stare con gli altri queste due dimensioni verticale personale individuale e quella orizzontale relazionale ma non solo con il partner penso con i figli con il lavoro con gli impegni i servizi e lì sto provando a crescere perché per una vita le due disfunzioni sono o penso solo a me e quindi divento orgoglioso narcisista infantile individualista evitante potrei continuare oppure mi spezzo per gli altri non rispettandomi questo capita con i figli all'ennesima potenza capita nella coppia quando io mi adatto quando io divento dipendente d'amore non so dire no una mia difficoltà è trovare questo equilibrio un po' come stare in croce le due dimensioni e non puoi scendere da lì e io personalmente ho sempre vissuto con passione la vita con passione con passione soffrendo intensamente e la mia fatica è trovare questo equilibrio e penso che valga per ognuno di noi perché nella divina commedia i tre settori dell'inferno sono regolati in basse alle disfunzioni dell'amore di chi ama troppo poco di chi ama troppo o chi ama in modo sbagliato cioè amo qualcosa che non mi fa bene quello che accennavi prima non sempre in questa dimensione di cui parlavo prima di fallimento io ho sperimentato che in buona fede e facendo il bene con tutta la buona volontà e la passione del mondo puoi fare danni infiniti e quindi questa è la fatica penso dell'uomo e in questo senso mi chiedo e ti chiedo visto che sei molto impegnato immagino cercato come me passi la vita ad ascoltare persone qual è la tua modalità cioè dove dove ti ricarichi ad esempio negli ultimi anni sto sperimentando una dimensione superiore prima sì Spirito Santo sì Dio sì amore no universale di fatto posso umilmente dire che adesso inizio a capire è un po' beatrice per Dante che gli amori terreni sono parziali e sto provando ad aprirmi ad un'altra dimensione d'amore colgo che mi è cambiata completamente la prospettiva non chiedo più alla mia parrocchia di darmi la felicità non lo chiedo ai miei libri come dicevi tu prima e mi sono anche un po' stufato degli applausi il fare di cui mi sono nutrito per scappare la mia modalità non mi basta più rimarrò un operativo in mezzo alla gente ma non mi basta più quindi ti chiedo queste due dimensioni di dirci qualcosa sulla tua esperienza il trovare un equilibrio tra l'amore a me e l'amore agli altri perché mi posso svendere per amore l'ho fatto tante volte prostituire per amore sono un maestro e l'altra diciamo dimensione è quella verticale che diventa la fonte dell'amore e quindi non chiedo più a te chiunque tu sia cioè con una dimensione orizzontale di colmare i miei vuoti curare le mie ferite di risolvere il problema che ho con mio padre è un problema mio non lo posso buttare su di te sarei infantile tutte queste cose per me prima erano la maggior parte sconosciute quelle poche teoria oggi sento invecchiando tu hai un po' di anni più di me che mi sto aprendo questa dimensione verticale a un altro amore e quindi quando guardo qualcuno con tutto l'amore del mondo ma non chiedo più non voglio non sempre ci riesco di essere la sostanza completamente e quindi le relazioni e ogni cosa che faccio sono un po' come dire la cornice la sostanza è un altro amore qui mi trovo ma mi apro a questo e non sempre ripeto ci riesco e ti chiedo di raccontarci condividerci il tuo pensiero la tua la tua esperienza va bene vi dico cosa mi salva mi salva in questo manicomio che vivo di tanta roba ma come voi è un manicomio ormai è un ritmo che vi dicevo prima da malati di mente non si può campare così ma anche se non hai grandi incarichi grandi compiti corri lo vedi dalla mattina alla sera di qua di là non riesci a riposarti mai non riesci mai a calmarti a fermare il cuore ormai è come un modo di campare per cui non è ormai più che fai manager da quello fai contadino è come siete entrato dentro questo ritmo folle e cosa fai io? io cerco mi piace molto il distacco anche nelle storie d'amore il distacco è sano perché se io che non vuol dire scappo di casa vuol dire che trovo uno spazio per me perché se io mi stacco capisco mi chiedo chi sono io senza il mio uomo chi è quell'uomo senza di me a me non me lo chiedo no perché sembra dovuto ma seconda cosa il distacco alimenta il desiderio perché dopo un po' ti rompi le scatola sta lì cicc hai bisogno di uno stacco che ti rialimente il desiderio di una persona te la fa risognare te la fa vedere a distanza ma con un desiderio di riabbracciarla quindi io per dire per campare in questo mondo cerco un distacco vi dicevo prima che si vive con dei ritmi da folli e io credo che l'unica salvezza oggi è diventare monasci nelle città monacos non vuol dire isolato vuol dire unificato io per campare con i ritmi da matto che ho ogni giorno perché la bellezza dei monaci è ogni giorno capite non ogni tanto ogni giorno io mi regalo mezz'ora alla testa piglio un libro dietro leggo dieci pagine sottolineo una frase bellina e me la mastico tutti i giorno mezz'ora cammino libero in un campo in una strada mezz'ora mi metto in silenzio in una chiesa in un angolino sotto un albero perché il silenzio è cento volte più potente delle parole perché risveglia ciò che dorme dentro di te se voi ogni giorno invece di stare dentro la massa dei ritmi salvate almeno dieci minuti un quarto d'ora alla testa al corpo all'anima stai meglio fa bene a te ma soprattutto fa bene agli altri gli sputi meno vereno addosso meno rabbia meno tensione perché se in te non c'è pace non la dai la pace se in te non c'è un po' d'ordine non dai l'ordine un'altra cosa mi è servito è la lentezza io se ora vi dico tornate a casa e da domani fate meno cose non ce la fate quindi è inutile ve le dica quindi lentezza non vuol dire fare meno cose ma farne una alla volta vedete io stasera so qui e so qui tutta la testa il corpo e l'anima è con voi qui e poi ci avrò il viaggio poi ci avrò quello che rompe ma chi se ne frega so qui io ogni volta mi sono allenato in questi due anni qualunque persona qualunque cosa io sono lì arrivo a sera sono meno esaurito capite avete visto questi imbecilli negli uffici fanno tre cose insieme un ne fanno una bene sbagliano due volte ed è a ricominciare da capo o quelle donne che fanno dei troiai da mangiare da fa schifo con queste cose già pronte perché arrivi c'hai mezz'ora la testa di qua il corpo qui il telefono di là ma come cavolo fa a far da mangiare non puoi far nulla di buono se te avessi mezz'ora gli dice ragazzi non rompete datemi mezz'ora e tutta la testa il corpo e l'anima è su quell'aglio olio e peperoncino e vi è in buono ragazzi capite il problema che la lentezza mi ha salvato a me il distacco il darmi una disciplina questo mi è servito tanto grazie voi non so se sapete lui vive in uno spettacolo di verde di 12 ettari più o meno ed è agricoltore scultore pittore cantautore poeta e potrei aggiungere ma una cosa che hai vinto cioè non tanto per i talenti perché ce ne abbiamo tutti ma perché sei a contatto con questa dimensione artistica mi colpisce e se volete vi accenno anche che lui ci ha confidato prima ma lo sapevo ho visto diversi video tuoi su youtube che trasforma gli arnesi dei contadini cioè gli attrezzi del lavoro della terra li trasforma in opere d'arti quindi perché ti dico questo hai fatto riferimento più volte alla fragilità e l'amore è fragile per tanti motivi in particolare perché ti mette a contatto con te stesso e con tutte le tue parti risolte buie bloccate io ho imparato e un po' se vuoi la chiave di lettura principale del viaggio di Dante che fino a quando guardi i demoni degli altri nella vita sei dannato solo dannato quando invece grazie alle relazioni alle situazioni della vita ti inizi a vedere e non puoi scappare perché una relazione come accennavi prima ti inchioda alla verità di te non dell'altro e quindi cominci a vedere i tuoi demoni quella dannazione non è più fine a se stessa perché sono sempre demoni ma diventa la via della salvezza cioè non scappo da quelle fragilità dai miei limiti ma diventano ponte verso il cielo vedendo quello che fai come produci dal nulla da elementi direi insignificanti un'opera d'arte io farei un viaggio metaforico simbolico perché tutte le persone che ho conosciuto ma anche quelle più famose hanno fatto della loro vita un'opera d'arte partendo da quel nulla e se non parti da lì non esiste opera d'arte e quindi se tu hai questa attitudine vuol dire che hai fatto un viaggio e per questo lo puoi raccontare e ti direi che significa per te questa trasformazione perché in fondo è la vera opera dell'amore se penso a Fellini o penso a ogni modalità artistica in fondo sono trasfigurazioni cioè il niente che diventa bellezza infinita se ci condividi qualcosa poi ti direi che ascoltiamo eventualmente qualche domanda allora io direi di non ascoltare le domande nel senso che dopo arriva quando si fa gli incontri quelli bravini quelli intelligentini fanno le domande che sono sempre delle bischierate e in realtà quelli quelli invece che hanno cose belle non hanno il coraggio di dirle e conviene ascoltare loro quindi evitiamo le domande io favo una conclusione e poi si vanno a mangiare allora la prima parlerei di due cose che sono molto legate all'amore perché nell'amore sono fondamentali uno è la fragilità e uno è il perdono e io l'ho passata tutte e due queste cose per cui vi dico quanto sono importanti io non sopporto questi imbecilli di genitori che dicono ai figli timidi sii forte gli spaccherei il muso perché se gli dice a un figlio timido sii forte vuol dire che non vale nulla vuol dire che tutti bisogna diventare forti io non so se dentro la vostra famiglia c'è un ragazzo timido avete visto che quello timido è il meglio di tutti è quello che se uno in casa sta male lo vede per primo è quello che ha una sensibilità 10 volte più alta ad un altro ma cosa gli distruggi io quando avevo 15 anni andavo in mare sotto un ombrellone io timido a fare schifo non riuscivo ad alzare gli occhi a 5 metri in quei 15 giorni arrivava una ragazza bellissima io non mi ho visto una bella in quel modo timida come me si sembrava ad un becilli perché io la guardicchiavo lei mi guardicchiava e in 15 giorni non sono riuscito a dirgli una parola ma se penso a quel momento non penso che ero uno stupido mi fa tenerezza quella timidezza perché avevo una paura sapete qual era? avevo paura di sciupare una cosa bella ragazzi ma che cavolo c'è di più potente che aveva paura di sciupare una cosa bella e allora la prima cosa che dovremmo fare è amare la tua fragilità e soprattutto nelle storie d'amore smetti di nascondere perché avete visto che quando uno ha un difetto lo nasconde più lo nasconde più si vede più si vede più tutti ti distruggeranno soprattutto il tuo uomo o la tua donna non te lo puoi permettere perché altrimenti ti distrugge quindi io direi primo amare la tua fragilità non averne mai paura secondo se ti blocca ci si muove vi dico come è successo a me io ho fatto i prete sett'anni sono andato in crisi sono andato via un anno ho preso lo zaino Bolivia deserto sono tornato dal vescovo dammi questa pieve romanica tutta diroccata volevo aiutare chi passa una crisi ma la crisi l'ho avuta il mese prima di tornare ho detto non posso aiutare gli altri se non capivo il motivo e sapete quali erano i due motivi primo la timidezza da morire non riuscivo a guardare nemmeno uno negli occhi secondo queste mani vedete questi diti tutti tagliati che ho questo piede balordo che cammina un po' alla buona perché la mia mamma aveva preso una medicina il talidomide vi ricordate che le donne incinte gli davano una pasticchina per la nausea migliaia di bambini senza gambe senza braccia io ho avuto fortuna vedete cammino mi movo ma quando ero bambino mi mettevano il costumino come tutti i bambini mi buttavano in spiaggia tutta pigliammi in giro guarda questo zoppo guarda questo monco ho detto ora basta trovai un salmo la pietra scartata è diventata la pietra angolare ho detto perché le due cose più schifose di me questi occhi impauriti queste mani non può diventare il meglio di me ci avete mai pensato se vi è andata male un pezzo di vita invece di star sempre a lamentarvi a farla pagare tutti in mondo di usarla i grandi sono quelli gli è andata male qualcosa l'hanno rimpastata come il pane e l'hanno lanciata in avanti ma il danno peggiore che avete fatto a vostri figli che non gli avete insegnato a faticare l'avete rimbambiti tutti e senza fatica non si cambia nulla ve lo dicevo prima l'amore non fa bene se ti fa accomodare fa bene se ti fa faticare e allora mi sono promesso un anno intero di guardare tutti negli occhi ho detto pensino che cavolo gli pare non scappo dagli occhi di nessuno tremavo diventavo rosso ma non scappavo poi mi sono detto c'è bellezza in queste mani o sono finito io ho cominciato a creare come diceva lui queste icone se io devo dire le due cose più belle che ho sono questi occhi e queste mani quando Gesù dice quando Gesù dice la tua debolezza e la tua forza per me è la cosa più potente che ha detto questa è la prima cosa anche nella storia d'amore farti vedere come sei non averne paura e poi lotta per cambiare qualcosa lotta ma intanto parti dall'idea di amarla quella fragilità seconda cosa fondamentale nell'amore come nella vita è il perdono allora se uno non sa perdonare il passato il futuro è finito e spesse storie d'amore non vanno avanti perché sia l'uomo che la donna non hanno guarito le ferite da piccoli e le scaricano su quell'uomo su quella donna su figlioli dopo io odiavo mio padre picchiava gridava e beveva l'ho sopportato un pochino e poi l'ho odiato i passaggi che ho fatto per perdonarmelo sono tre prima ho cercato di capire perché grida perché picchia e lui poverino un giorno mi dice era il primo di cinque fratelli era morto suo padre aveva solo dieci anni ha dovuto lui fare il padre a quattro fratellini quando me l'ha detto ho detto è normale che picchi no? o grida se fosse avvenuto a voi dieci anni ti mori babbo o la mamma devi tirar su quattro fratelli è normale che si è arrabbiato quindi la prima cosa che vi chiedo se qualcuno va tradito va fatto male va abbandonato primo capire perché ma attenti capire non vuol dire giustificare se uno fa una cosa cattiva è cattiva punto io lo voglio capire per me secondo non odiarlo io ho un istinto molto violento se picco qualcuno lo mando sempre all'ospedale non mi tengano nemmeno in tre per fortuna fui prete mi capita un po' meno ma mi capita se vedo un handicappato preso in giro se vedo un ragazzo timido offeso dai branco voli e spacco tutto per tutte le offese che da bambino ho avuto su di me e perché io ho il sangue di mio padre come voi avete il sangue di tuo padre e di tua madre quante volte avete detto non voglio diventare come la mia mamma poi ti guardi uguale spiccicata identica attenti a odiare perché se odi diventi come ciò che odi io una vita che lotto con me per tirar fuori ironia calma dolcezza ma la lotta è con me non con i miei babbo ma non basta capire non basta non odiare non farsi avvelenare mio padre è morto 14 anni fa ha preso un ittus due mesi prima di morire io ho preso il fuoco di Sant'Antonio due giorni dopo il massimo dello stress ho detto mi more sono stato in chiesa a piangere tutta la notte a trattare con Dio ho detto Dio se è l'ora piglialo ma dammi qualche giorno non me lo porta via subito sentivo mancava un passaggio a perdonarlo due giorni prima che morisse ho buttato fuori i miei fratelli di camera davanti a lui all'ospedale piangendo gli ho detto grazie perché mi hai picchiato grazie perché gridavi e se sapo una bottiglia di spumante io ancora mi tappo gli orecchi grazie perché se non fossi stato così io non sarei quest'uomo di oggi andate a leggervi il testamento bellissimo di Bernadette di Lourdes che dice grazie ai gendarmi che mi hanno presa per pazza grazie alla superiore che che mi offendeva di continuo grazie ai miei genitori che non ci hanno capito nulla capite che perdono vi chiederei non è quella stupidaggine che ho sentito un idiota di psicologa c'hai una ferita mettici una pietrina sopra dai ormai vai avanti questa è roba da idioti perché se voi avete una ferita come avete e ci mettete una pietra il pus aumenta vi chiedo un lavoro più faticoso capire non non odiare e un giorno dire grazie sono stata una famiglia difficile ma sono diventato un uomo una donna se voi non fate così la farete pagare all'uomo dopo alla donna dopo e a figlioli e per i figli non c'è bisogno di picchiarli basta il tono della voce basta come li guardi per far capire che hai qualcosa che bolle dentro conclude e si va via queste per me sono le due cose anche nella storia d'amore fondamentali amare la fragilità e perdonare anche il tuo uomo la tua donna quello che è ma soprattutto perdonare la nostra vita concludo così prima avevo detto che non sopporto la modernità per i ritmi da idioti ma soprattutto e chiudo la modernità negli ultimi 80 anni ci ha dato vedete queste luci i Bose il telefonino però ci ha distrutto i fondamenti se ci pensate da quando è arrivata la modernità hanno ucciso tre cose la bellezza la tenerezza e la gioia è arrivata la modernità hanno costruito delle chiese moderne che fanno schifo un ce n'è un avverso ora non questa anche hanno costruito quei quartieri avete visto in cui l'obiettivo era fare i soldi quindi sempre più bassi meno erba se andate a giro per l'Italia e per il mondo avete visto che in 80 anni hanno sciupato tutto hanno messo il brutto da tutte le parti secondo hanno ammazzato la tenerezza tutto violento aggressivo veloce e hanno sostituito la parola gioia con la parola felicità e ci hanno fregato a tutti io vi auguro di non farvi ammazzare almeno queste tre perché ci hanno detto ma cosa vuoi che sia la bellezza bisogna guadagnare bisogna fare soldi allora quando è che voi sentite che una cosa è bella facile quando senti che non te la meriti quando il mio figliolo è troppo bello per me la mia donna è troppo bella per me la mia pieve romanica è troppo bella per me per questo non dico è la mia è di mondo per questo non la chiudo mai giorno e notte perché è una bellezza che butterebbe giù le porte a me mi garba da morire Giulia Roberts l'avete presente l'attrice mi fa impazzire sapete perché mi garba perché è fatta male avete notato c'ha gli orecchi a sventola c'ha la bocca esageratissima gli occhioni esagerati eppure giustamente è una delle più belle del mondo cosa vuol dire una cosa fondamentale che non è bella la bocca di una donna è bello il sorriso di una donna non è bello gli occhi di un uomo è bello lo sguardo che me ne fa di una bocca tutta tirata di rossetto che non ride mai ho di occhi tutti perfettini che non hanno la luce dentro quindi la bellezza non è estetica ma tutto ciò che è vivo avete visto queste ragazzine a 15 anni oggi fanno schifo perché sono tutti uguali con quelle facce a bischero in cui per tirare su un sorriso sembra di fare la guerra con gli occhi nel vuoto la bellezza non è estetica delle misure la bellezza è se vivi vedete a me mi tocca invidiare questi bischeri di ricchi avete visto i ricchi parecchio ricchi parecchio no questi qui arrivano da noi con un pacco di soldi le case più belle dei contadini te le fregano tutte loro le case più belle in mare te le fregano tutte loro non ci riman nulla ma mi tocca invidiarli perché sono gli unici con quanto costano le cose oggi che possono permettersi una casa a 20 metri da in mare ragazzi capite che vuol dire se c'è una casa a 20 metri da in mare che io c'ho un'energia che spacca il mondo ma secondo voi perché i vostri figlioli sono tutti rincoglioniti perché dove si girano non riescano a vedere una cosa bella e non l'abbiamo allenati a vedere il bello dove apparentemente non si vede io giro tutta Italia quando vado in Valpadana non vedevo l'orei scappavvia questo troiaio di nebbia tutto piatto poi mi sono detto mi sono detto ma io non posso pensare che li fa tutto schifo e mi sono allenato a vedere le sfumature dei grigi ragazzi c'è delle sfumature di grigio va sicuro in Valpadana che non trovi da nessuna parte del mondo perché l'incrocio tra lo smog e la nebbia quindi c'è un colore particolare quindi dicevo non fa più accontentarmi lo faccio perché ho bisogno di avere negli occhi il bello guardate la bellezza ha un'energia che spacca il mondo come diceva Dostoevsky salverà il mondo quindi primo non vi fate ammazzare la bellezza secondo la tenerezza non so se avete avuto la fortuna di stare vicini a chi sta per morire avete visto che alla fine purtroppo non si fa più nulla gli puoi solo dare un gocciolino d'acqua in bocca gli tieni la mano gli dai una carezza gli puoi solo addolcire la morte ragazzi ma cosa c'è di più potente che addolcire la morte di chi more ma c'è una cosa più alta per me una carezza è cento volte più potente del fare l'amore basta con questo fa l'amore tirato via ragazzi basta l'amore fatelo meno e fatelo meglio perché il fare l'amore non è una cosa da buttare là è il punto più alto dell'amore è quello che ti fa volare sentire una cosa sola o ti fa schifo perché una carezza è più potente perché se un uomo dà una carezza lenta vera alla sua donna lei sente un brivido dentro di una tenerezza infinita se la donna dà una carezza se una donna dà una carezza al suo uomo lui sente un brivido di coraggio si avrebbe avuto uomini e donne più sane che questo manicomio di oggi di uomini senza coraggio come siamo noi uomini perché noi uomini tendenzialmente siamo dei guerrieri avete visto si raggiunge un obiettivo e si tende tutto a comodarci di donne mascoline da morire queste sceme che hanno voluto copiare gli uomini e hanno ammazzato la parte più bella che avevano la femminilità la tenerezza ma se le nostre comunità come prova cristiana invece di fondarle sull'organizzazione sui programmi sui progetti si fondassero sulla tenerezza dell'accogliere la gente di sorridere la gente di far sentire a casa le persone ma quanto sarebbe meglio e chiudo la gioia io non sopporto questa parola idiota felicità avete visto tutti questi imbecili cerca la felicità o la trova nessuno perché qui non si trova perché la felicità ha un opposto che è l'infelicità o felice o triste e la felicità ha bisogno di condizioni se oggi va tutto bene felice c'è due cose storte triste ma che vita da idioti è è come quegli imbecilli che lavorano dodici ore al giorno per due mesi senza gode nulla per avere ogni due mesi due giorni alle terme roba da idioti cioè io voglio dire io non voglio provare un gocciolino di gioia ogni tanto io vorrei provare gioia nel vivere allora io amo la gioia vi auguro di non essere felici ma di aver la gioia dentro che conta di più vi ricordate San Francesco perfetta letizia vai con vento ti bastonano e te mantieni gioia quella è perfetta letizia la gioia anche se ti bastonano non se va tutto bene troppo facile o come nel film della vita è bella di Benigni si sta in un campo di concentramento e tiro fuori gioia dai che trovo o come dice Gandhi il problema non è aspettare che la pioggia finisca ma saper ballare sotto la pioggia grazie e buona serata grazie di cuore Gigi buona vita grazie a tutti grazie a tutti Grazie.